Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere come personalizzare il bottone aggiungi al carrello per i prodotti che sono già presenti nel carrello. Alcuni di questi strumenti di marketing che possono sembrare magari anche banali, possono però diciamo aiutare l'utente a migliorare la vendita, ad aumentare quella che è la spesa media e un sacco di altri benefit che può avere appunto il tuo imprenditore o tu webmaster diciamo programmatore che stai diciamo dando la possibilità al tuo cliente di aumentare quelli che sono i loro strumenti di marketing. Andiamo quindi a vedere come è possibile con poche righe di codice aggiungere una piccola personalizzazione dove appunto una volta che un prodotto è stato inserito già nel carrello andare a modificare quello che è il bottone aggiungi al carrello per quel prodotto. Andiamo a vedere direttamente nella parte tecnica come si fa e di che cosa vi sto parlando perché è molto più semplice a vederlo che a spiegarlo. Bene, come in molti video presenti sul mio canale per visualizzare quello che vogliamo ottenere, la personalizzazione che vogliamo ottenere, abbiamo bisogno di collegarci al nostro sito, non serve per questo video che ci andiamo a collegare nella parte di back end del sito ma lavoreremo lato front end. Quello che vogliamo ottenere è appunto una modifica del bottone aggiungi al carrello sia sulla pagina shop, sulle pagine di categoria sia all'interno del singolo prodotto, quindi ci prepariamo anche per quanto riguarda il singolo prodotto. Quello che vogliamo vedere è una variazione quando il prodotto è già presente nel carrello. Apriamo quindi il nostro client FTP, come ho già detto in altri video presenti sul mio canale, utilizziamo, lavoriamo all'interno del nostro tema, quindi andremo a collegarci al nostro client FTP, lavoreremo all'interno della cartella WP content, all'interno della cartella temi e per questi video tutorial noi abbiamo scelto di creare un tema child del tema storefront, quindi andiamo dentro la cartella storefront child. Apriamo il nostro file function, in questo qua vediamo del codice che abbiamo visto in altri video presenti sul canale, per quanto riguarda oggi la parte della porzione di codice che dobbiamo aggiungere è la seguente, stai tranquillo perché la troverai qua sotto in descrizione, quindi non ti perdi nulla e ora andiamo a vedere un po' passo passo che cosa vogliamo ottenere con queste funzioni, con queste righe di codice. Allora iniziamo subito con fare una breve distinzione. Allora la prima parte di codice riguarda la pagina del singolo prodotto, mentre invece la seconda parte di codice riguarda, come ho detto prima, la shop page, le pagine di categoria, tutte le pagine che mostrano il loop dei prodotti. Ok, lavoriamo quindi con il filtro WooCommerce Product Single Add to Cart Text, quindi lavoriamo con questo filtro e ci andiamo a costruire la nostra funzione personalizzata, quindi con il nostro prefisso diamo un nome alla funzione personalizzato di modo che o il nome si riferisca al filtro o all'action diciamo di competenza o comunque diamo un nome alla funzione che quando avremo la pagina piena di funzioni ci faccia capire più o meno colpo d'occhio che cosa farà con la funzione. Quindi nel nostro caso MRC Custom Add to Cart Button Single Product. Che cosa facciamo? Fondamentalmente quello che andiamo a fare è per ogni volta che troviamo il prodotto, quindi che prendiamo la data e che il prodotto è già presente nel carrello, quindi se il prodotto è già presente nel carrello, quello che andiamo a fare noi andiamo a prendere quel prodotto e per quel prodotto ID andiamo a modificare la label, quindi il testo del bottone e cambiamo, io qua ho messo un testo a piacere, naturalmente tu puoi modificarlo e ho scritto già nel carrello, come per dire il prodotto è già presente nel carrello, vuoi aggiungerlo di nuovo? Vuoi aggiungerlo nuovamente? Ok, e poi appunto ritorniamo quella che è la nuova label, quindi il nuovo testo del bottone al carrello. Andremo poi a vedere lato frontend che cosa significa questa modifica che è molto più pratica a vederla che altro che a farla. Ok, stesso analogo più o meno discorso vale per quanto riguarda il loop, quindi le pagine di archivio, come ho detto prima, la shop page e pagine di categorie e quant'altro dei prodotti naturalmente. Usiamo quindi un altro filtro che è WooCommerce Product Add to Cart, quindi non è per la single page ma per il loop, come abbiamo già detto. Anche qui abbiamo creato la nostra funzione personalizzata che è MRC Custom Add to Cart Button Loop, quindi come prima prefisso, nome della funzione che più o meno rimanda che cosa farà. Andiamo a vedere che cosa farà. Quindi qua controlliamo se il prodotto è di tipo semplice e se è in stock, se è possibile quindi acquistarlo. Anche qui controlliamo se il prodotto è presente nel carrello. Se il prodotto è presente nel carrello, noi andiamo a prendere l'id di quel prodotto e nuovamente andiamo a modificare anche qua la label come sopra, scrivendo anche qua un testo a nostro piacimento. Già nel carrello aggiungere di nuovo, quindi chiediamo all'utente, gli facciamo vedere che il prodotto è già presente nel carrello e gli chiediamo se vuole aggiungerlo di nuovo. Bene, salviamo adesso in questo momento e andiamo a vedere lato frontend che cosa significa. Ok, aggiorniamo, vediamo se abbiamo fatto tutto correttamente. Allora, in questo momento il nostro carrello è vuoto, aggiorniamo. Ok, abbiamo come vedete tutti i bottoni aggiungi al carrello, aggiungi al carrello, proviamo ad aggiungere album al carrello, la pagina viene riaggiornata, abbiamo album nel carrello e come potete vedere il bottone è cambiato e quello che ci viene scritto è già nel carrello aggiungere di nuovo, quindi il codice, lo snippet di codice che abbiamo inserito e che ti ricordo troverai qua sotto in descrizione, praticamente va a vedere che il prodotto è presente già all'interno del carrello e ci chiede se vogliamo aggiungerlo di nuovo. Proviamo a farlo con un secondo prodotto e come vedi anche qua cambia il label del bottone. Andiamo a vedere quello che è il singolo prodotto, aggiorniamo, questo è il prodotto album che abbiamo inserito poco fa, anche qui abbiamo il nuovo prodotto aggiornato. Se un prodotto come per esempio il berretto con il logo non è ancora aggiunto al carrello, il nostro bottone sarà lo stesso di prima. cosa diversa è come abbiamo visto adesso se invece il berretto che voglio farti vedere è presente nel carrello e noi apriamo il singolo prodotto del berretto come vedi il nostro testo del già nel carrello aggiungere di nuovo. È una piccola personalizzazione che può portare a ottimi risultati per quanto riguarda il completamento del carrello. Come hai visto le righe di codice non sono molte, abbiamo una prima parte per quanto riguarda il singolo prodotto come ho già detto prima e una parte per quanto riguarda la pagina shop, categoria e comunque dove c'è il loop dei prodotti. Sono molto semplici, li trovo sotto in descrizione e direi che per quanto riguarda la personalizzazione del bottone aggiungi al carrello, per oggi è tutto. Bene, hai visto come con poche righe di codice è stato possibile ottenere questa personalizzazione che come ho detto già all'inizio è uno strumento di marketing che può quindi aiutare l'utente a diciamo acquistare più volte lo stesso prodotto quindi ad aumentare quella che è la spesa media del carrello. Se c'è qualcosa che non ti è chiaro, qualcosa che non hai capito ti invito a lasciarmelo scritto qua sotto nei commenti, sarò lieto di darti una mano e se in ogni caso questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!